ero uscito per farmi una corsetta e dopo sono tornato alla mia amata casetta ma appena entrato ho visto sul soffitto una grossa zanzara la quale appena l'ho vista che si è posata sulla mia spalla iniziata sui chiammi sangue mi sono proprio incazzato come una bestia ma proprio una bestia e allora però comunque la zanzara è morta